Salve a tutti ragazzi, io sono BoltPlayer e benvenuti in questo nuovo video. L'ultima volta abbiamo sconfitto la palestra di BluRuvie e abbiamo consegnato la lettera al Rocco. E adesso dobbiamo continuare. Ehi, per te partirei in ogni momento. Dove siamo diretti ora? Ok, Selcepoli. Hai detto Selcepoli? Sulle ancore, Peco, mio prediletto. Stiamo per salpare. Ok. Oh mamma, quanti allenatori. Vabbè, ci penseremo dopo. Ok, siamo appena arrivati sulla spiaggia. Eccoci, siamo sbarcati a Selcepoli. Immagino che farai visita al Caporemo per dargli la MercedEvon. E certo, siamo gli schiavetti. Ok, direi di combattere con tutti loro. Ovviamente taglierò le parti. Ok, credo di aver battuto tutti. Qui c'è anche una Pokéball. Ok, c'è dentro una pozione. Ok, non c'è più da fare nulla qua. Questa qui... Aspetta, come si chiama? Qui ci sono un sacco di lotte qui dentro, ma le farò più tardi. Ok. Porto Selcepoli. Che cosa? Chi è? Ciao Bolt, sono Petra di Ferru Gipoli. Rudy mi ha detto che stai facendo passi da gigante come allenatore. Un giorno spero di poterti sconfiggere. Qui alla palestra stiamo dandoci sotto con gli allenamenti. Così potremmo accettare ancora la tua sfida. Mi auguro che tu ne abbia voglia quanto me. Ok. Ehi, smetto di spingere. C'è la coda, non vedi? Ok, presumo che qui non si può andare. Ok, sì, dovremmo andare qui, se non sbaglio. E parlare con lui. Ehm, se questa cosa va qui e quella va là, dove va allora questo? E quel aggeggio lì? Ehm, non ne vengo a capo. Hm? Ciao, sono Timon. Il caporemo mi ha dato l'incarico di progettare un traghetto. Oh, che cos'è? È la merce Devon? Hm, fammi pensare. Il caporemo è partito per chissà dove. Aveva delle faccine da sbrigare. Ti va di cercare il caporemo e di consegnare direttamente la merce? Ok. Ora, se non sbaglio, la fila dovrebbe essersi tolta. Ok, sì. Vado un attimo a curare i Pokémon, visto che ho combattuto prima. Ok. Dovremmo entrare qui dentro. Si trovi nel museo o c'è ono grafico? L'ingresso costa 50 Pokémonete. Vuoi entrare? Buon divertimento. Ok, se non sbaglio, se parliamo con lui ci dà un AMT. Ehi, che ci fai tu qui? Io sono quello del Timitro che hai battuto prima, nel tunnel mio inferro. Ricordi? Prendi questo, devi perdonarmi. Grazie. Quella AMT è più adatta a te che a me. Spero di non rivederti mai più. Hehe. Ok. Ok. Adesso dovremo parlare con lui. Sì? Se stai cercando il Caporemo, sono io in persona. Ah. Devono essere i pezzi che ho ordinato dal signor Petri della Devon. Perfetto, grazie. Adesso possiamo prepararci per la spedizione. Eh, vabbè. Hehe. Aspetta. Il pacchetto è nostro. Che cosa? Chi sono queste persone? Siamo il Timitro. Il nostro capo vuole quei pezzi. Dammeli senza tante storie. Vabbè, qua i modi sono proprio più gentili. Qua è la sfida di Regu da Timitro. È il turno di Carvana, mandato in campo da Regu da Timitro. Ok, io c'ho Nutsleaf per primo, quindi con Simitraglio dovrei farglielo fuori. Ok. Colpi subiti due. Abbiamo avuto la meglio. Ah, sono stato battuto. Oh, che disastro. Il capo andrà su tutte le furie. Largo, frignone. Ci penso io. Vediamo cosa sai fare tu. Ah, lui c'ha due Pokémon. Oh no. Zubat. Vediamo cosa... Ah sì, usiamo Bruciapelo. Oh già, la sua abilità fa... Lo fa attaccare lo stesso. Anche se l'abbiamo fatto tentennare. Eh vabbè. Vediamo Natura Forza. Ok, comete. E Nutsleaf sale al 21. Carvana? Ok, allora dovrei farlo fuori subito. Semitraglia. Anche brutto colpo. Cioè, poteva capitarmi prima, va bene. Ok, abbiamo avuto la meglio. Che cosa? Ho perso anch'io. Se torniamo a mani vuote, ne sentiremo delle belle. Ah, non pensavo che i nostri piani sarebbero andati all'aria. Sono venuto a vedere perché è tanto complicato portare via alcuni pezzi, ma vedo davanti a me solo una giurma di pappamolle. Noi siamo il Timidro e adoriamo il mare. E io sono Ivan, il capo del Timidro. Cosa ti spinge ad interferire con i nostri piani? No, non può essere. Non sarai un membro del Team Magma? Non posso crederci. Non hai l'aspetto di uno di quelli. I Pokémon, le persone. Tutta la vita dipende dal mare. Lo scopo del Timidro è l'espansione del mare. Non trovi che il nostro sia un obiettivo magnifico? Ma perché sto parlando con te? Sei ancora troppo giovane per comprendere la nostra nobile causa. Se sarai a interferire con i nostri piani un'altra volta, la pagherai cara. Non dimenticarlo. Vabbè, lasciamo perdere. Come ti chiami? Ah sì, me l'hai già detto. Sei Bolt. Una situazione davvero tesa. Ti ringrazio per l'aiuto. Oh sì, per poco dimenticavo che i pezzi della Devon sono arrivati grazie a te. Ok. Ops, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo partire al più presto alla scoperta dei fondali marini. Mille grazie ancora, ma ora devo proprio andare. Tu vuoi restare a dare un'occhiata alle nostre sale, se ti va. Ah, mi ha curato anche i Pokémon, grazie. Ma non intendo ammirare queste cose. Sono belle, sì, ma ho altro da fare. Ancora lui. Sono sicuro che ci siamo già incontrati. Mi sono già presentato. Io sono Scott. Ho appena visto quelli del Timidro correre via. Non dimmi che li hai scacciati tu. Forse, forse, questo allenatore. Penso proprio che diventeremo buoni amici noi due. Registriamoci nei nostri Poké Nav. Ma se neanche ti conosco. Ma vabbè. Non vorrei perderti di vista. Ma allo stesso tempo vorrei tenere d'occhio anche altri talenti. Quindi andrò ancora in giro per altre città. Ci vediamo, Bolt. Va bene. Cura un attimo i Pokémon. Ok, prima di andare avanti vorrei fare una cosa. Ok. Nei paraggi dovrebbe esserci un Pokémon che vorrei assolutamente nella mia squadra. Vediamo se esce il primo colpo. No. E mi sa che dovrò tagliare. Appare l'Ektrack selvatico. Questo è il Pokémon che vorrei quatturare io. Per la mia squadra. Ho paura di fargli un sacco di danno. Spero di no. Ok. Ora provo a lanciare la Poké Ball. Vediamo. Spero che non esce. Eh, vabbè. Lui sa fu un misguardo. Per favore, entra. Vai, 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 vai. Evviva. I dati dell'Ektrack sono stati inseriti nel Pokédex. Ok. Vuoi dare un soprannome a Lake Strike? No. Ok, la mia squadra è quasi completa. Manca solo un Pokémon. Ovviamente l'Incada non lo userò. Lo uso solamente per le MN. A sto punto vado a curarmi un attimo i Pokémon. Ok, possiamo continuare. Di qui non possiamo andare perché abbiamo bisogno di una bici. Visto che è una pista ciclabile. Oh, Bolt, che bello vederti qui. E dove è Vera? Ah, capisco. Non andate in giro insieme. Va bene così. Ho sentito che ti hanno installato la funzione sfidafonino nel Pokénav. Allora registrerò anche te nel mio Pokénav. In questo modo, anche se non siamo insieme, posso valutare il tuo Pokédex. Ok. Bolt, ti prego, tieni sotto occhio Vera. Bene, è ora di andare. Ci vediamo, Bolt. Va bene. Ok, sfida. Per esibire i miei Pokémon dovrei fare di meglio. Mi piacerebbe averti come pubblico molto più spesso. Ok, sa bella registrata. Vabbè, da questa parte vi torrò di andare perché ci sono allenatori e li farò off camera. Questa è la quizoteca. Però non la farò adesso perché vorrei farci un video a parte. Quindi per adesso la saltiamo. E andiamo da questa parte. E ci sono già allenatori. E vabbè. Ok, possiamo continuare. Ah, c'è Vera. Bolt, quanto tempo? Mentre cercavo altri Pokémon i miei sono diventati molto più forti. Quindi che ne dici di una lotta? Vabbè, non mi fa neanche rispondere, ma va bene. Tanto avrei detto sì lo stesso. Vediamo come è diventata forte la nostra rivale. Ok, facciamo Brugia Pelo. E Ten Ten. Ora vediamo Natura Force. No! Attacco d'Ala. Ok, comete. Pensavo sarebbe diventato paralizzante. Meno male che è diventato comete. Slugma? Ok. Io metterò Marshtomp. Le mando Slugma. Con Pistola Acqua dovrei farlo fuori. In realtà anche con Colpo di Fango. Ok, 300 punti. Ora mando a Grovile. Ma io manderò Tylow. Ha già fatto evolvere il suo starter, come ho fatto io. Eh, è più veloce il suo Grovile. Però mi sa che in un colpo non glielo faccio fuori. S. Se lo attacco... Ok, attacco rapido. Abbiamo fatto fuori... I Pokémon di vera. Wow, sei meglio di quanto pensassi. Bolt, ne hai fatti di allenamenti, vero? Ti meriti un premio. Ti do questo. Il Detector. Buono. Questo è un Detector. Provalo. E mette un suono se localizza uno strumento. Anche se non è visibile. Ok, Bolt. Incontriamoci di nuovo. È strano, lo so. Ma penso che tu abbia bisogno di allenarti ancora per la prossima volta. Lei ha già la bici. Mmm, vabbè. Ora combatterò con loro. Mi piace anche registrare gli amici nello sfidofonino. Registrato anche lui. Qua ci sono altri allenatori. Ok. E troviamo gli Seer. E va bene. Ok. Vabbè, quelle Buck le prenderò off camera. Quindi non le prenderò di certo adesso. E siamo arrivati a Ciclamipoli. Adesso curo i Pokémon un attimo. Vabbè, per questo video è tutto. Iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. Ed unitevi nel mio server Discord in cui vi lascio il link in descrizione. E da Bolt Player è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.